Sono passati ormai 20 anni da quel 2 marzo 2003 quando il sovrintendente della Polfer Emanuele Petri perse la vita sul regionale Roma-Firenze all'altezza della stazione di Castiglion-Fiorentino. Petri insieme ai colleghi Fortunato e Di Fronzo chiesero le generalità ad un uomo e una donna a bordo di un vagone. Un controllo di routine, questo doveva essere, ma la coppia esibì documenti falsi. Si trattava in realtà di Mario Galesi e Nadia Desdemona-Lioce, capi delle nuove Brigate Rosse e responsabili degli omicidi dei giuslavoristi Massimo D'Antona e Marco Biagi. I terroristi, notando i dubbi dei poliziotti, tirarono fuori le armi e di lì ne nacque un conflitto a fuoco. Emanuele Petri morì sul treno, Mario Galesi morirà invece alcune ore dopo in ospedale. Rimase ferito anche Bruno Fortunato. Nadia Desdemona-Lioce venne arrestata. I comuni di Cortona, Castiglion-Fiorentino e Tuoro sul Trasimeno, dove Petri risiedeva, ricorderanno il sacrificio del sovrintendente con tre cerimonie. In quella prevista a Castiglion-Fiorentino, presenti oltre le autorità locali, il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Nicola Molteni, e il capo della Polizia, il prefetto Lamberto Giannini. Grazie. Grazie.